Sarà lo scrittore israeliano David Grossman ad aprire la quindicesima edizione di Pordenone Legge, in programma dal 17 al 21 settembre nella città friulana. Il festival diventato riferimento per lettori e autori internazionali offre anche quest'anno un ricco calendario di appuntamenti. Oltre 200 gli eventi, tra questi anche un Alexio Magistralis di Umberto Eco sui legami tra romanzo e storia. Tutto il programma sul sito www.pordenonelegge.it www.pordenonelegge.it